Allora con Stefano Lucchini una tradizione che ormai si consolida questa della festa della Dea Stefano è sempre bello tornare in mezzo a questo bailam Sicuramente è un piacere perché è una festa non da tutti quindi è un orgoglio per il mondo del calcio perché avere dei tifosi come questi è sicuramente importante per una squadra come la nostra E adesso c'è questo ritiro da affrontare con le pile che si sono ricaricate dopo le vacanze Sì, già la stanchezza inizia a farci sentire dopo i primi giorni sarà un ritiro lungo perché serve caricare per trovare la condizione fisica per un campionato lungo e difficile quindi lavoreremo bene per questo Dopo le tante voci delle passate stagioni e le passate sessioni di mercato mi sembra che qui a Bergamo ormai hai messo le radici calcisticamente parlando Ma guarda, le voci sono sempre tante, magari a volte fatte da qualcuno che non sa nemmeno come stanno le cose Io ho sempre detto di stare bene qua, spero e vedremo con la società magari cosa sarà il futuro Io quest'anno sono a scadenza di contratto e vedremo se la società è convinta di tenere Stefano Lucchini e quindi di proseguire il nostro rapporto Avete detto l'incontro dunque in questi giorni, mi fai capire? No, non penso adesso, hanno altre cose a cui pensare penso che se si faranno le cose magari durante la stagione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti